Piazza Garibaldi a Teramo dalle 21 in poi diventa terra di nessuno. Violenza, alcol e spaccio sembrano essere di casa in questo luogo preso come punto di riferimento da tanti balordi e la sera diventa pericoloso attraversarlo. È quello che riferiscono i residenti della zona che hanno iniziato a confrontarsi tra di loro per una raccolta firme da inviare alle autorità competenti. Intorno alla piazza ci sono vari chioschi che vendono alcolici fino a notte inoltrata insieme ad altre attività di cibo caldo che sfornano panini non stop. Inoltre, proprio da Piazza Garibaldi partono e arrivano diverse linee di autobus che conducono nelle frazioni e nei quartieri periferici della città. Una situazione del tutto simile ad altre realtà cittadine se non per il fatto che la zona sia stata eletta punto di ritrovo multiraziale per spacciare droga, ubriacarsi e aggredire violentemente. Solo nelle ultime settimane si possono contare episodi piuttosto gravi. Una maxirissa tra stranieri che ha avuto come conseguenza diversi feriti. L'accoltellamento di un autista di bus mentre cercava di sedare un litigio tra due passeggeri e l'ultimo, due giorni fa, il pestaggio di un ventenne da parte di due ubriachi. Il ragazzo pare abbia reagito verbalmente agli apprezzamenti pesanti fatti alla sua compagna. È stato un attimo e si è scatenato l'inferno. Il giovane è stato gettato a terra e picchiato violentemente. Ha rischiato di morire, scrive addolorata la madre sul web. Il quartiere da tempo segnala ciò che accade di notte anche nei giardini di via Riccitelli, adiacenti a piazza Garibaldi, un luogo poco illuminato e di conseguenza teatro di compravendite illecite. Intanto le forze dell'ordine pattugliano quotidianamente la zona e per prevenzione è stata disposta la chiusura notturna dei sottopassaggi della piazza. Interviene anche il sindaco d'Alberto, che annuncia un aumento del numero delle videocamere di sorveglianza.